Non servono tante spiegazioni per la copertina di oggi di Mitumorro, venerdì 7 giugno, perché facciamo il punto nella doppia centrale sulle piscine aperte, su tutti i centri balneari che proprio dal prossimo weekend andranno a regime. Ne parliamo anche con Chiara Bisconti, presidente di Milano Sport, vi facciamo il punto sia dei centri Milano Sport che di tutte le altre piscine a disposizione, dei bagni misteriosi, ma anche acquatica, l'idroscalo con ben tre vasche, sempre a disposizione dei milanesi tutti i giorni dalle 10 alle 19.30. Weekend di fine scuola, come vi racconta Alberto Rizzardi, ma anche di festa del Giappone al Magnolia, quindi torniamo anche qui all'idroscalo, lounge svizzera invece in Brera per aperitivi molto particolari. Ovviamente in tema estivo si parla di nuovo di film sotto le stelle ed ecco tutta la programmazione di Arianteo. Il venerdì, come sempre Mitumorro, vi consiglio i libri con Michela Caradonna, ecco i quattro consigli di questa settimana e anche le selezioni casting.